Il 3 maggio rappresenta una data significativa per i poco più di 300 abitanti di Olera, piccola ma caratteristica frazione di Alzano Lombardo. Ricorre infatti l'anniversario della morte di fratommaso, il venerabile che sarà beatificato il prossimo 21 settembre. Nobile figlio della terra bergamasca continua ad essere per tutti sposati e consacrati, un esempio luminoso e sicuro intercessore. Lo sanno bene i residenti che manifestano apertamente la propria devozione a frate, la cui caratteristica era andare di anima in anima con la stessa facilità con cui andava di porta in porta. Noi ci aspettavamo una Olera più vivace oggi. Più vivace ma qui tutto il giorno non c'è nessuno perché sono tutti i lavori. Ci stanno organizzando come parrocchie per fare delle, per la manifestazione in se stessa che sarà il 22 di settembre e poi si stanno organizzando per preparare degli apparati, delle esposizioni eccetera, quelle cose lì. Lei la sente particolarmente la devozione? Noi siamo devoti a fratommaso da quando siamo nati, almeno da quando sono nato, quindi abbiamo sempre portato avanti questa, 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 questa devozione nostra. Anche se poi effettivamente la devozione è incominciata nel 78 quando il padre Fernando D'Ariese che era di Vicenza aveva incominciato col parroco vecchio a spingere questa, questa, questa devozione a fratommaso. Diciamo una previsione, aspettate tanta gente. Ma personalmente spero, però bisogna vedere come è stata programmata all'esterno del paese. Nato in un'umile famiglia di Olera nel 1563, fratommaso moriva nel convento dei Cappuccini a Innsbruck nel 1631. Diversi gli appuntamenti programmati in preparazione alla beatificazione, dalle celebrazioni religiose alla giornata di studi in programma per giovedì 16 maggio presso i padri di Oneani di Albino, a cui seguirà nel pomeriggio alle 15 nella parrocchiale di Olera la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Veschi.